Quella alle nostre spalle è una chiesa di San Cristoforo rinata. Il 5 settembre, dopo diverse settimane di lavori, qua, nell'oratorio seicentesco di Via Genocchi, inaugurerà il nuovo Museo della Poesia di Piacenza. Abbiamo voluto fin da subito connotare il Museo della Poesia in una polifonia di voci. L'evento sarà composto da quattro iniziative nell'arco della stessa giornata, per garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale. Avremo una grandissima violinista, una delle più grandi violiniste al mondo, Elisabetta Garetti. Poi avremo Anna Spasic, che è una performer soprano. I poeti-canti, che è un duo molto molto particolare. E concluderemo con Gilberto Colla, grandissimo attore teatrale e regista. Con il Museo della Poesia, l'ex chiesa di San Cristoforo tornerà ad aprirsi alla città. In effetti questo è a restituire alla città un gioiello, questo gioiello di Bibiena, in più dalla possibilità a Piacenza di poter vedere questo oratorio, al quale molto spesso passavamo davanti tutti, ma nessuno aveva mai avuto l'opportunità di visitarlo. L'inaugurazione del 5 settembre sarà accompagnata dal contributo di poeti internazionali. La città di Piacenza si pone quindi al centro di un universo in questo momento, che richiama l'attenzione di tutto il mondo della poesia. La giornata si svolgerà in contemporanea con l'inizio dell'anno dantesco, a 700 anni della morte del sommo poeta. Questa è la sedia del poeta e ospiterà almeno a livello simbolico il sommo poeta. La rinascita del Museo della Poesia conta sull'appoggio di Banca di Piacenza e Fondazione di Piacenza e Vigevano, attraverso un contributo totale di circa 50.000 euro per l'allestimento della nuova sede in Via Genocchi. Vogliamo anche ampliare la base. Abbiamo dei notevoli programmi, progetti, che tutti richiedono un qualche supporto economico. Per il 5 settembre è tutto pronto. Ecco un assaggio di quella che sarà la performance di Anna Spasic. Esorcismo con riso. Mettetevi a ridere, ridoni, sorridete, ridoni, che ridano di risa, che ridacchiano ridevoli.